La memoria al tempo dell'intelligenza artificiale 1. La memoria è un concetto complesso che ha subito significative trasformazioni nel corso del tempo, riflettendo i valori e le priorità della società. Nella scuola del passato la pedagogia era orientata verso l'accumulo di informazioni mnemoniche, spesso attraverso il ripetitivo apprendimento di date, di fatti e poesie. Questo approccio, a volte noioso, rifletteva la necessità di formare individui in grado di ricordare una vasta quantità di informazioni, un'abilità considerata essenziale in una società che valorizzava la conoscenza enciclopedica.